Musica Onorevole De Magistri, buonasera, siamo a Crotone, una manifestazione regionale organizzata dal gruppo e dal partito risanamento ambientale, premessa di futuro per Crotone e per la Calabria, l'impegno di Italia dei Valori L'impegno di Italia dei Valori è per un cambiamento totale delle politiche in materia ambientale basta con lo sfruttamento del territorio, basta con lo smaltimento illecico, discariche abusive e pericolose la vicenda del sequestro di Pianopoli dove abbiamo manifestato l'altro giorno significativo non centrali elettri nei parchi nazionali, Crotone poi testimonia allo scempio del territorio bisogna cambiare completamente, bisogna fare uno sviluppo economico compatibile con l'ambiente per fare questo bisogna spezzare il legame tra gestione del denaro pubblico e criminalità organizzata per fare questo bisogna fare uno sviluppo economico